Presso il Teatro dell'Aquila si è svolta l'Assemblea pubblica di Confindustria Fermo dal titolo Caro lavoro, il capitale umano come il lavoro sostenibile. Il sottosegretario all'Economia e Finanze, Lucia Albano, ha approfondito alcuni aspetti della manovra di bilancio, soprattutto in materia fiscale. L'obiettivo di questa manovra è mettere in sicurezza il tessuto produttivo. L'altro fine è tutelare le categorie più fragili. Per aumentare i soldi in busta paga si è scelto di tagliare il cuneo fiscale stanziando 4 miliardi, ma guardiamo un taglio di almeno 5 punti da raggiungere nel corso della legislatura. Abbiamo varato una nuova tregua fiscale, un ampliamento della platea della flat tax e la flat tax incrementale. L'intento del Governo è attuare una vera e propria rivoluzione copernicana in materia fiscale. Altro tema dibattuto è stata la formazione e la richiesta di manodopera specializzata da parte delle imprese. Secondo il sottosegretario è necessario combattere la disoccupazione giovanile investendo di più sulla formazione tecnica che rappresenta il legame tra scuola e imprese. Una proposta è quella di istituire il liceo del Made in Italy con una formazione in grado di coniugare la cultura classica con quella economica. Altro obiettivo deve essere avvicinare la componente femminile alle cosiddette materie STEM. Un breve commento anche sul reddito di cittadinanza. Questa misura, afferma il sottosegretario, aveva come obiettivo quello di non lasciare le persone indietro. Invece io penso che le abbia lasciate proprio ferme.